Pallone recuperato dalla Lazio, Immobile si lancia verso l'area, Immobile, Immobile! Poker Lazio, doppietta di Immobile, 4 a 2 e 26 in campionato per il numero 17. Di rabbia, d'orgoglio la Lazio è riuscita a prendere una partita complicata. Immobile probabilmente chiude la questione sul rinvio sbagliato di Brignoli con i replay, capiremo di chi è la colpa. Questo rinvio qua sicuramente Brignoli, autore dell'errore ma è bravo a mantenere la freddezza giusta, Ciro Immobile a battere in diagonale, portiere del Benevento, primo errore, numero 22, fatale. Grazie a tutti!